Zero gol nelle prime due gare ufficiali tra Coppa Italia e Campionato, due reti subite. Dopo i primi 180 minuti in cui si è iniziato a fare sul serio, l'attacco del Brindisi è risultato spuntato. L'ex Rieti e Pesaro, Francesco Marcheggiani, gli anni scorsi è quasi sempre andato in doppia cifra e Brindisi attenda che raggiunga il top della condizione fisica per iniziare a vedere la sua esperienza e il suo talento indiscutibili. Sono 188, infatti, le reti segnate sin qui nella sua carriera tra Serie C e Serie D. Ora al Brindisi servono i suoi gol anche per non subire la beffa di una sconfitta di misura maturata negli ultimi minuti. I biancazzurri, infatti, anche con l'ischia, hanno provato a pungere la difesa avversaria ma con poca convinzione e precisione. Domenica, prima trasferta della stagione, alle 16 la squadra di Monticciolo incontra l'Andria allo stadio dell'Olivi. Per i sostenitori adriatici questa non è una gara come le altre ma un match sentito per la storica rivalità tra le due tifoserie e perché dopo la meravigliosa cavalcata dalla D alla C e la prima parte dello scorso torneo ritrovano d'avversario il condottiero che gli ha fatto vivere il sogno con la promozione in terza serie dopo 33 anni, Ciro Danucci. Il Brindisi però non può e non deve fermarsi dinanzi alla forza della Fidelis. Il tecnico Monticciolo e il difensore Sal, pur consapevoli della strada in salita, guardano la prossima gara come una partita in cui non si può sbagliare. Il tecnico adriatico ha tutti gli uomini a disposizione. I primi giorni della settimana sono stati intensi tra allenamenti e preparazione del derby. Il Brindisi è chiamato a sbloccarsi e a gridare presente a se stesso e alla piazza.